Crack BPV chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente Gianni Zonin e per altri sei ex dirigenti della Popolare di Vicenza. Indagati per aggiotaggio, ostacolo all'attività di vigilanza e falso improspetto. Oltre a Zonin, la Procura di Vicenza ha chiesto al GIP il processo per Giuseppe Zigliotto, Samuel Sorato, Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta, Paolo Marin, Massimiliano Pellegrini. Medesimo provvedimento per la stessa Popolare di Vicenza che deve rispondere da giotaggio e ostacolo all'attività di vigilanza e in liquidazione coatta amministrativa in virtù della legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.